risvegliarsi all'alba inseguire il giorno e la notte chiamare il tramonto per nome partire insieme condividere ogni chilometro di strada qualunque essa sia niente è come un viaggio a parte ciò che ci spinge a viaggiare il piacere di guidare nuova bmw serie 3 touring scopritela anche nella versione x drive su bmw.it e nelle concessionarie bmw grazie